ma stava uno cazzo con i proiettili qua avete visto? eh ma è limitato era quello che c'avevo io che poi lui ha preso mentre l'ho fatto casca no no era munizioni massime io ho le armi di titanfall tanto per dirti eh karakiri cosa? vado eh ora sono diventato mission tanto negro negro oh charger l'ho evitato l'ha preso l'ho evitato l'ho evitato un gioco da maestro proprio mi son messo dietro al pilato ho fatto cosi che non è spittata da voi che non è spittata da voi Mi conviene che vi curate, quanto state? Quello che sta conviene energia di oro, vi cura, SUV, e io 54 quindi è meglio di cura tu. Quasi si deve fare ogni tanto, si dà uno ciascuno. Dentro. Una fottuta pistola, non esce. Ha l'adrenalina. Mi ha dovuto sporcare, mi ha dovuto sporcare. Un po' di pistola normale, no Nin? Dile! Pistola! Sta? Ma no a deserti con la normale. Beh, la pistola è normale. Questa è un po'. Massa fatti. Ma che doppia pistola, tengo 30 colpi per sempre. Quindi pure se rimane accorti le munizioni. E' buona la katana, però diventa... Oh cazzo! Fanculo! Mi ha aspettato. Ragazzi, mi devo curare per questo senno. Non credo che lo guarda, secondo me. No! Ma che ne so? Era un amore sceso. Ehi, sto rilogando. Mi ha ammazzato quello qua fuori. E' il tank. Oh! E' una cassa di Molotov qua. E' il tank da qualche parte. Stanno arrivando. Stanno arrivando sopra. Dov'è? Buttate una molo. Dove buttate? Arrivano da qui? Sento l'hander io, eh. Eccolo. Sta qua sotto, sta qua sotto. Ok. E' meglio qua. Si va bene. Niente tank? Niente tank? Aspetta, aspetta, aspetta. Per lustrazione. Eh boom, noi dovevamo uscire. Witch! E' uno. No 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 no. No 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 no. No 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 no. No no non no 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 no. увZk! si si sei morto è la sorta ho di curi ma son morto comunque se mai chiappa quindi ah è giusto non di cura allora lascia aspetta aspetta e babbo me la prende un'altra no porca nooo sono morto io perchè io non qua sta questa è una grande stronzata io stavo lontano siamo stati voi ma chi è andato fuoco e no perchè che dura lui guarda asci si è diventato più nero si è diventato più nero qua ci sta defibrillatore vabbò ma non serve aspetta la mia c'è un medic siete passati voi sei incazzata io stavo lì sono rimasto si perchè hai 8 secondi per allontanarti dai suoi occhi ma devi far ringgiare troppo perchè sennò dopo e aspettate 5 minuti io di solito mi faccio il campagna e tocare la pistola sta la e sta il tank al 100% sta per qua garantito sto sentito io la molotov ce l'ho abbiamo tutti qua poca puttaaa no no se avete fatto caso c'è un invetto speciale ogni stanza arriva con i proiettili flash flitter l'arm è troppo lento praticamente uno con il cazzo militare e poi c'è il medikit qua ragà io ho visto che io io non ce l'ho perchè uno io a chi è che ci vanno aspetta a tutti e poi c'è io in caso è qualcosa in caso è qualcosa iniziale iniziale vedete appena come siamo stavano i cosi qua gli antidolarifici perchè non non siete piati se e sali noia ande serviz rancchè questo è un val tempo che mi fa sta destino eccolo spuro tutto 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 usciamo dalla è un combo sparato verso le palle saliamo 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 portiamolo ma la pigna mi ha dato po' aspettate un attimo ho due minuti vieni qua che è di curo ma spesso si arrivo non di muovo sta una merda attimo 30 si percazzo stascia i zombie non aspettano i comodi eh ho capito però i compagni ne dovrebbero difendermi noi stiamo difendendo sotto eh io sopra tutti quanti ho ammazzati va sotto 30 secondi che sta? è sotto la scala secondo me vado è proprio vicino ma ha preso rimortarci posso sta prendito mamma mia come l'ho ammazzato salvato a culo eh ma ho detto 30 secondi eh ma 30 secondi non si può aspettare su sto gioco eh ho capito guardatemi spalle 30 secondi thank you thank you non ho più niente ho finito tutto molotov sto da capo a 12 sto rimorendo sta un medikit la pure roba qua dietro se non mi sbaglio eccoli qua raga togliere sto cazzo di fucido e dove hai il medikit di te qua lì eh vabbè aspetta ragazzi il defibrillatore qua mobili a me fantastico 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 andiamo di là andiamo di là andiamo di là oddio non riesca a vabbè no ma abbiamo stati qua e lo so ma se non lo curo lui praticamente è morto con il rush finale e lo so aspetta un po' sono qua le munizioni eh pure credo tu usi l'antitolorissimo eh qua ci dobbiamo mettere spalla a muro qua vicino ai munizioni stai a posto ma ma dobbiamo correre qua eh sì però qualcuno li dobbiamo fare perché se no ci troviamo addosso quanta munizione oh vado aspetta deve deve rientrare cosa però là eh dove sta non sta bene fascia 30 secondi rega eh 30 secondi no perché se riesca allora non hai capito che su sto gioco arrivano ogni 2 minuti che vi andate eh buonanotte ti va? posso premere? bene non lo so mai qui va a fare eh sto a salutare vabbè salutare salut mh p***a orca manna affanculo porca p***a stai rotto i coglioni sto levantato quell'altro Sì, non è così Sì 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 Hunter Oh Flitter Damo un Hunter diet Fissa a te Sì 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 ma la stanza sta qua porca merda porca in serio grazie a tutti